Dopo la vittoria di La Spezia cerca continuità la Lazio per mettere pressione sulla Roma e smarcarsi dalla Fiorentina nella corsa all'Europa. Sfida oggi la Sampdoria che viene dal preziosissimo successo nel derby sul Genoa ed è a più 5 sul terz'ultimo posto, 36esima di Serie Team Lazio-Sampdoria. Palla dentro, sembra essere regolare la posizione di Caputo che spinge il contropiede della Sampdoria, il corso dentro per Tosby! Di collo pieno, di controbalzo, Sampdoria vicina al gol del vantaggio. Candreva, spazio per lui, arriva adesso ad accorciare Marusic, Candreva le finte, poi il corso Marusic-DeV, arriva Rincon, Stracoscia! La palla a cercare Milinkovic-DeV che la mette giù con il petto, pensa alla conclusione! Potente! Maudero para! Luis Alberto morbido dentro, colpo di testa! E la Lazio è in vantaggio! 1-0 dopo 41 minuti su assist di Luis Alberto, il colpo di testa di Patrick. Tocco in verticale, Candreva Rincon, triangola Beresinski, bell'azione della Samp che sale con 4 giocatori, ha sfondato il muro della Lazio. Beresinski centrale per Sabiri che calcia! Stracoscia, conclusione di prima di Sabiri! Zaccani, la stoppa è parte, bella progressione, poi il tocco interno, Luis Alberto in orizzontale scivola la pallone verso Milinkovic-Savic che finta il tiro, poi va dentro da Immobile, altra occasione per Milinkovic-Savic. Zaccani! Zaccani, in tuffo Udero! L'anticipo secco di Lazari su Torsby, Lazari poi super in slancio a Ugello, fa ripartire la Lazio in contropiede. Lazari arriva in aria, tocco dentro per Luis Alberto di suola, ancora Luis Alberto, tunnel! Ma che gol ha fatto Luis Alberto! 2-0! Carezza al pallone e poi tunnel per il gol del raddoppio! Fantasia al comando! Palla in verticale di Luis Alberto per Immobile, in aria Immobile in diagonale! Grande parata di Udero! Candreva può controllare, va dentro Beresinski. C'è il cross secondo, palo Quagliarella! Palo! Occasione Samp al novantesimo. Titoli di coda! La Lazio batte la Sampdoria 2-0, due gol spagnoli, Patrick e Luis Alberto.